Hello bella gente e benvenuti in questo messo mio video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo nel 14esimo vlog, ma se come avete visto gli scorsi giorni stanno uscendo video tutti i giorni, quindi se ve li siete persi ve li lascio nella playlist in alto a destra così potete andarli a recuperare. Io direi di non perderci in chiacchiere ancora e iniziare subito con il video di oggi che è un tutorial semplicissimo su come fare delle miniature personalizzate per i vostri video di YouTube. Ok, eccoci qua su Photoshop, la prima cosa che dovremmo fare ovviamente è andare ad aprire il programma, dopodiché andremo a fare file nuovo, apriremo un file con queste dimensioni, larghezza 1920, altezza 1080 e risoluzione 10, in modo che il nostro file non peserà. Andiamo a fare ok e eccoci qua sul nostro foglio a bianco. Ora dipende molto dalla copertina che volete fare, sia una copertina con la vostra faccia innanzitutto andrete su file e farete, inserisci incorporato, andrete a scegliere l'immagine e la importerete. Come vedete si vede così piccola, quindi adesso la andremo a ridimensionare nella dimensione giusta del foglio e per farlo schiacceremo il pulsante alt e andremo a trascinare in un angolo. Tenendo premuto alto, come vedete, possiamo fare in modo che la nostra immagine aderisca perfettamente. Andiamo a cliccare su conferma e abbiamo la base per la nostra miniatura. Ora non fate caso alla foto perché erano foto di quelle fatte a caso, perché io ogni tanto mi metto così a giocare con la fotocamera così per fare cose a caso. E niente, adesso dipende molto da come volete svilupparla. C'è chi mette solo il testo, c'è chi aggiunge degli effetti, c'è chi aggiunge delle immagini e cose del genere. Io personalmente, come penso avete potuto notare, di solito inserisco solamente il testo e inserisco poi la cornice che di solito è trasparente ma per adesso, per i Vlogmas, è russa. Come si fa a inserire la cornice? Partiamo da quella. Per la cornice utilizzeremo lo strumento rettangolo che vedete qua in basso, quindi lo selezioniamo. Il riempimento non ci interessa, altrimenti sarà un rettangolo colorato e noi vogliamo solamente la traccia, diciamo. Quindi andiamo a selezionare traccia e andiamo a scegliere il colore che ci aggrada, ad esempio il nero. La dimensione ho messo 40 pixel in modo che con queste dimensioni si veda bene e non sia troppo sottile e direi che siamo a posto. Adesso per fare il nostro rettangolo andiamo a trascinare dall'angolo in alto o da qualsiasi altro angolo fino all'angolo opposto. Et voilà! Si è creato il nostro rettangolo. Ora andiamo giustamente ad aggiustarlo, quindi andiamo a farlo aderire perfettamente ai margini della nostra foto. Quasi perfetto così. E come vedete adesso abbiamo già una cornice nera, però è troppo scura secondo me così. Quindi andiamo a cliccare sul rettangolo e andiamo ad abbassare l'opacità. Io di solito quando le faccio le metto al 20% in modo che non dia troppo fastidio ma si veda come se fosse una sorta di sfumatura. E così stiamo comunque già a un buon punto per una miniatura possibile. Ovviamente potete anche per esempio selezionare l'immagine. Se voi volete distaccarvi dallo sfondo potete selezionare lo strumento ritaglia veloce e vi andate a ritagliare diciamo selezionando solamente voi stessi in questo modo senza selezionare il resto che vi circonda. Quindi senza selezionare più che altro lo sfondo in questo momento. Ovviamente non verrà un lavoro precisissimo perché sarebbe un suicidio far venire un lavoro precisissimo. Altrimenti potrete usare anche lo strumento penna. Questo qua che fa la stessa cosa però voi andrete a fare man mano tutti i vari punti sopra. E in questo video non mi sembra il caso perché altrimenti dura tre secoli. Quindi mettiamo caso che questa sia la nostra selezione. Facciamo creare livello copiato e ne abbiamo un altro. Infatti se andiamo a togliere questo come vedete rimaniamo solo noi. Ora qui è tutto spigoloso perché giustamente l'abbiamo ritagliato in fretta e in furia. Però per aggiustarlo almeno un minimo possiamo prendere lo strumento gomma e andare a fare una cosa del genere. Magari abbassando appunto la durezza in modo che venga una cosa tipo sorta di sfumatura. Mettiamo caso che questo sia un risultato che ci aggrada. Andiamo a selezionare il nostro livello 1 che appunto siamo noi. Facciamo opzioni di diffusione e per distaccarci allo sfondo possiamo mettere ombra esterna. Andiamo ad applicare l'ombra e poi regoliamo le impostazioni a nostro piacimento in modo che ci soddisfino. Facciamo caso che vogliamo fare una cosa del genere. Come vedete qua è venuto ritagliato male perché ci sono queste due strisce però è un problema marginale che possiamo risolvere prendendo di nuovo il nostro strumento gomma e andando ad eliminare questa parte. E' perfetto adesso abbiamo il nostro soggetto rialzato dallo sfondo con l'ombra dietro insomma che come vedete si vede. Ovviamente c'è bisogno di modificare tutte le varie cose ma non stiamo qui a farlo perché sennò già vi ho detto che durerebbe troppo. Quindi mettiamo caso che siamo soddisfatti così per il nostro soggetto ci manca da fare solo il testo. Quindi andiamo a fare testo e selezioniamo l'area in cui vogliamo scrivere. Mettiamo caso che sia questa. Ora andiamo a impostare una grandezza del font. In questo caso direi che 500 può andar bene così non è troppo grande né troppo piccolo. Poi dopo l'andiamo a sistemare e andiamo qua ad impostare il font. Tra l'altro se non vi piacciono i font già installati che sono davvero molto basic potete utilizzare dei siti come da font per scaricarne di tutti i tipi davvero. Infatti nel corso degli anni ne ho scaricati un botto e mi piace insomma utilizzarli. Anche se di solito come font utilizzo Hello e Cartoonist. Ora mettiamo Hello e diciamo il font di tutte le scritte in rosa per capirci. E mettiamo caso che questo è un vlog. Quindi scriviamo per esempio vlog 13 per dire. Ok abbiamo il nostro testo. Andiamo a riselezionarlo con il tasto sinistro del mouse e andiamo ad aumentare la grandezza. Fino a 1296 si possono aumentare. Quindi mettiamo il massimo perché in questo caso almeno si vede abbastanza grande. E lo andiamo a posizionare dove vogliamo. Magari continuiamo ad ingrandirlo un po' utilizzando questo strumento. E mettiamolo anche un po' più obliquo in modo che sia più carino. Perfetto. Diamo ok e come vedete adesso il nostro testo si vede davvero male perché ovviamente risulta attaccato sull'immagine. Quindi andiamo a fare nuovamente opzioni di diffusione e andiamo a mettere una traccia. Una traccia che di solito io lascio impostata su 10 in modo che sia abbastanza visibile. Come vedete adesso già si vede molto meglio. Forse in questo caso 10 è troppo esagerato quindi magari lasciamo 5. Ok 5 è davvero perfetto. E poi vado di solito a impostare un'ombra esterna che solitamente non si vede così tanto. Quindi andiamo ad abbassare un po' i valori in modo da distaccare anche la scritta dal foglio diciamo. E poi potete cambiare ovviamente colore quindi fare una sovrapposizione sfumatura se volete fare una sfumatura. E qua potete impostare tutte le varie cose. Oppure potete semplicemente selezionare lo strumento testo, riselezionare il testo e cambiargli il colore. In questo caso mettiamo caso che vogliamo fare la sfumatura. Mettiamo la sfumatura e come vedete abbiamo già una copertina bella e che pronta. Ovviamente questo era un tutorial molto molto basic. Quindi ci sono davvero tantissime cose, tantissime opportunità che ci permette di fare Photoshop. Ma secondo me per chi ha le prime armi una copertina tipo questa potrebbe essere davvero la soluzione ottimale. Anch'io personalmente, anche se utilizzo Photoshop da più tempo, preferisco fare delle copertine abbastanza semplici in modo da non focalizzarmi troppo sulla copertina ma magari focalizzarmi per il contenuto all'interno del video. Facciamo caso che questo sia un risultato che ci soddisfi. Andiamo a cliccare su file e facciamo salva con nome. Andiamo a selezionare la cartella dove la vogliamo mettere. Di solito io le metto tutte sul desktop. E cambiamo qua il file perché se mettiamo psd è il file di Photoshop modificabile. A noi interessa metterla magari in JPEG oppure in PNG. Però di solito utilizzo JPEG. Quindi lo mettiamo. Facciamo caso che vi abbiamo dato già il titolo e facciamo salva. Ora ci chiederà qua altre cose. Per qualità lasciamo alta e vediamo che qui non deve superare i 2 megabyte. Perché se supera i 2 megabyte siamo fritti perché YouTube non ce la legge. Quindi in caso andiamo a diminuire un po' più la qualità per avere un file un po' più piccolo. Facciamo ok e come vedete qua sotto c'è l'avanzamento. Appena arriverà così di nuovo si sarà salvata e avremo la nostra miniatura bella e che pronta da caricare su YouTube. Non ci resterà altro che chiudere Photoshop e caricare il video. Ebbene ragazzi questo era il nuovo vlogmas di oggi dove vi spiegavo come fare una copertina in modo semplice e veloce su Photoshop. Fatemi sapere se questo tutorial vi è servito e se ne vorreste vedere magari altri. E niente noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video sempre qua sul canale. Bella!